andiamo all'upline mare che bello col bastone prende una visuale e invece i pezzi dove ti si vede da dietro a me? 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 attenzione mi cade di faccia attenta quelli sono poliziotti Vai, vai amore Grazie Ciao Ari, ciao Fabi Bella Ciao Fabi, ciao il mare Vieni, siamo a Polo Carina, sembra che te la voglio dare in vista una mazza Che bello, guarda Che bello Che bello Che bello Che bello Che bello Vieni due vite tre vite cinque vite che bello quello giulà l'avete visti in fondo per lo lungo e cornavelli miscredente rumore di un paolo sono le galline no ma io voglio venire qua col cavallo caccia di daimi che vista alla butto se cado andiamo dal cico ciao cico andiamo 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 mamma cos'è? si può notare un bellissimo stile gotico romanico davvero? davvero cavalli rocce di A aiuto non ti perdere avazio di San rabotto rabutto trappizzo fra che? la crozata è giù tutta va buongiorno terzo giorno tutti malati ci dobbiamo tappare la bocca quarto giorno Eduardo dice quarto giorno rihanna di qualcosa io non entro neanche se mi pagano rai rihanna wow che storia Grazie a tutti